Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo video vi mostro i miei regali di compleanno. Non perdo tempo in chiacchiere e vi faccio passare sullo schermo le immagini nel dettaglio di tutti i regali che sto per elencarvi. Per prima cosa vi faccio vedere il regalo che mi sono fatto da sola. Quest'estate sono stata in vacanza in Salento e sono passata da Lecce. A Lecce ho trovato il negozio ChocoStore che fa parte della catena Euro Chocolate e ho acquistato questa tovaglia. Mentre la maglietta che adesso vedrete è il regalo che mi hanno fatto mia sorella e mio cognato. Ma non si sono limitati a quella. Insieme ai miei genitori hanno pensato di regalarmi anche un'altra cosina. Si tratta di una pochette di borbonese. Grazie a tutti. 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 E il mio video termina qui. Spero che vi sia piaciuto. Vi saluto, vi mando un forte abbraccio e vi lascio qui sotto nell'info box tutti i link ai miei canali social. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi. Ciao!